Su questi campi un gol di quella fattura si vede poche volte. La Samba sta crescendo, tutte le squadre hanno bisogno di tempo, soprattutto quelle come la nostra, completamente rinnovate, con una partenza tardiva e con dei cambiamenti fatti in corsa a causa della categoria che poi non è stata quella che noi speravamo. Peccato perché nel mese in cui non eravamo in buona condizione abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, qualche episodio non è stato favorevole, però ci dispiace soprattutto per le due sconfitte in casa, ma il campionato è lunghissimo. Adesso abbiamo preso una buona striscia, ma non vuol dire niente. Io ripeto quello che ho detto altre volte, mi interessa la squadra che cresca, che faccia bene e poi la classifica a febbraio-marzo la guardiamo e speriamo che sia soddisfacente.